Benvenuti a tutti in questo incontro organizzato dalla rivista Africa dal titolo La cooperazione è mancata, le ombre sugli aiuti umanitari e progetti di sviluppo. Ne discutiamo con Valentina Furlanetto, autrice del libro L'Industria della Carità e con Raffaele Masto. Io sono Marco Trovato, sono il coordinatore della rivista Africa. Abbiamo veramente un minuto per presentare questa rivista, di cui Raffaele è una colonna portante, un nostro collaboratore. La rivista è un binestrale, diffuso su abbonamento postale, è una rivista storica nel panorama della stampa missionaria che è realizzata da laici, professionisti del mondo dell'informazione, reporter, fotografi, appassionati del continente africano. E diciamo che ha l'ambizione di raccontare questo continente in maniera diversa da quanto non usino fare i grandi media. C'è cercando quelle storie che non trovano spazio sulla stampa di larga diffusione in televisione, soprattutto cercando di raccontare come e quanto questo continente, il continente africano, stia cambiando. Sapete bene che la parola Africa nel vocabolario giornalistico è sinonimo di guerre, di raffiazioni, crisi umanitarie. I commentatori raccontano l'Africa come un continente malato, un continente destinato a soccombere. Noi siamo convinti che in Africa ci siano tante storie che nessuno racconta e che vale la pena di raccontare. Sono storie destinate a frantumare il cliché, luoghi comuni con cui siamo soliti pensare all'Africa e alla sua gente. E sono storie che a noi piace raccontare nella convinzione che questo continente sia assai meno dannato, assai meno scontato di quanti altri vogliono farci credere. Il panchetto della rivista si trova a 30 metri da qui, alle vostre spalle. Se alla fine di questo incontro volete conoscere, volete abbonarvi, volete acquistare il libro di Raffaele che abbiamo appena pubblicato, Diario Africano, Tappuino, di un reporter in vendita a 7 euro, o c'è la possibilità di abbonarsi a 25 euro. Finita la pubblicità, iniziamo con l'incontro. Do la parola a Raffaele che invece ha il compito di coordinare, di fare da mediatore anche della platea e naturalmente la parola alla nostra ospite, Valentina Furlerette, che è una giornalista del gruppo Sole 24 Ore e lavora a Radio 24. altrimenti Raffaele, oltre a essere collaboratore della rivista Africa, è conosciuto naturalmente da molti di voi per essere una voce storica dell'emittente radio popolare. Grazie. Bene, allora il tema, come saprete, è quello della cooperazione, un mondo che apparentemente, detto così, è un mondo abbastanza piccolo, di volontari, di gente che ha a cuore le sorti del mondo. In realtà è un mondo, e io qui cito Valentina Furlanetto, che scrive «Secondo il rapporto delle Nazioni Unite sullo stato del volontariato nel 2011, il numero dei volontari nel pianeta è pari a 140 milioni di persone». Anche lei ha avuto timore di aver scritto una cifra un po' troppo grossa e continua. Sì, non è un errore di stampa. Il popolo dei volontari è più del doppio della popolazione italiana. L'ONU calcola che se i fondi delle ONG fossero riuniti, rappresenterebbero la quinta economia mondiale. A gioco facile, quindi, chi definisce le ONG multinazionali della solidarietà. Bene, stiamo parlando di questa roba. Io credo che il problema non sia tanto il fatto che è un mondo vasto attraverso il quale circolano diversi soldi, ma è capire se la mission con la quale raccolgono e ottengono questo denaro venga poi rispettato, cioè se quel denaro e quell'impegno, riversati sulla parte del pianeta che ne ha più bisogno, facciano il loro risultato. Qui credo che finisci, ma la fila vedo che finisce, quindi li lasciamo passare. Quindi dicevo, il problema non è tanto quanta gente ci lavora e quanto denaro passa, è capire se quel denaro va a rispettare la mission che questo mondo si propone. Dal libro di Valentina Fuglanetto si capisce che qui si apre un po' di polemica. e io comincerei proprio facendogli questa domanda, ma quelle cifre, quei milioni di persone che si occupano di cooperazione, quella quarta multinazionale che sarebbero il mondo delle ONG veramente cambia il mondo? Grazie Raffaele, grazie a voi che siete qui Sì, questo, se cambia il mondo sicuramente lo cambia e il fatto che ci sia così tanto energia, anche economica, utilizzata per la cooperazione è senz'altro una buona cosa. Quando inizio a parlare del libro mi devo sempre difendere perché potrebbe essere equivocato l'atteggiamento, l'approccio, il titolo stesso del libro, io mi sono occupata per tanti anni scusa, dopo arriva la domanda per tanti anni di questi temi approcciandoli in maniera così, diciamo con simpatia, insomma con un approccio quasi con un pregiudizio positivo quindi mi fa un po' rabbia quando mi dicono ma tu da dove esci perché te ne occupi se vai a scalfire un mondo che si dà tanto da fare da dove esco me ne sono occupata per dieci anni cercando di illuminare i progetti delle associazioni perché ci credo e ci credevo e ci credo tuttora mi è capitato, come capita a tutti quando ci si occupa di un settore anche di vedere le opacità che ci sono le cose che non vanno, le cose che magari non necessariamente sono truffe o possono essere imputate di problemi giudiziari noi stiamo parlando della classica onlus che truffa perché prende e si porta a casa i soldi ma di opacità, di mancanza di trasparenza certe volte o di poca trasparenza, di efficacia perché se le onlus e le ONG giustamente nel tempo si sono professionalizzate addirittura usano il linguaggio delle aziende molto spesso i meeting, i briefing e perché non hanno assunto dalle aziende anche certe cose che noi chiediamo alle aziende poi se le aziende lo fanno o no è colpa loro se non lo fanno però chiediamo alle aziende quotate trasparenza ad esempio chiediamo efficacia un prodotto lo portate indietro se non funziona di solito, almeno queste le aziende serie poi le altre aziende hanno un altro paio di mani quindi come donatori io penso e anche come stampa che non dobbiamo sempre porgere il microfono e farci raccontare com'è bello andare in Africa a fare un progetto ma dobbiamo chiedere conto anche se poi il progetto che è stato fatto ha una sua efficacia perché se tu fai un ospedale ma poi l'ospedale non ha l'elettricità non ha le strade non hai le infrastrutture serve a poco, no? magari i soldi li espesi lo stesso e allora io credo che il giornalismo deve fare questo controllare sia che io mi approcci a Leni sia che io mi approcci a Emergency invece in Italia soprattutto perché poi parlando con colleghi all'estero non c'è questo atteggiamento né da parte della stampa dei donatori c'è un atteggiamento molto buonista nei confronti di queste associazioni che non sono tutte uguali anzi sono profondamente diversi una dall'altra ma c'è quella che pubblica il bilancio c'è quella che lo fa ma non lo pubblica c'è quella che non puoi chiedere di chiedere come un ufficio stampa non te lo manda è magari quella più insospettabile perché pubblicamente il guru di turno si vanta molto della sua capacità di accogliere, curare, medicare e a me questa cosa mi ha sempre fatto una profonda rabbia perché c'è un ritorno d'immagine molto forte tutta la, diciamo si fa anche politica grazie alla presenza in borda alla presenza nelle associazioni quindi era soltanto questo libro non una clava con la quale demolire il settore come a volte è stato inteso ma era un sasso da gettare in uno stagno piatto secondo me in cui qualcosa volevo che si muovesse e in effetti si è mosso poi come diceva Raffaele prima in un anno e mezzo da un anno e mezzo perché è stato pubblicato da un anno e qualche mese insomma molte critiche pubbliche molti dibattiti con persone molto piccate poi alla fine i dati sono questi perché non ho ricevuto una querella né una smentita vera e questo mi fa molto piacere perché in certi momenti ho un po' temuto ho detto addio si arrabbiano tanto avrò scritto una lira in più una lira in meno si attaccheranno a tutto invece no bene, ben venga e anzi ci sono delle associazioni che mi hanno scritto magari più piccole mi hanno detto noi non ci avevamo pensato ma lei ha ragione pubblico il bilancio a me questa cosa fa un enorme piacere c'è un progetto di legge che il Movimento 5 Stelle sa per proporre sulla necessità di pubblicare i bilanci che devono essere regati per legge ma non è necessario che siano pubblicati per legge e questi sono secondo me piccolissimi bei risultati detto questo la cooperazione è certo che serve serve come anzi il fatto che la cooperazione pubblica ad esempio sia ridotta a zero è un problema un problema grosso poi anche la cooperazione pubblica insomma Zanotelli nell'introduzione ne parla in maniera critica perché lui lo sa sulla sua pelle perché è stato esiliato per questo non sempre ha funzionato però è anche giusto che lo Stato se ne occupi perché come dico io per la cooperazione ma anche per la sanità e welfare un malato un povero non ti deve stare simpatico ha diritto di essere curato essere assistito anche se non ti è simpatico quindi non è che perché la sclerosi multipla ci sta simpatica allora ci buttiamo lì perché se la cooperazione o la sanità questa è una mia opinione ovviamente è privata la sussidiarietà famosa in Lombardia se ne ha parlato tanto le associazioni giustamente si dedicano a quello che a loro interessa invece ci vorrebbe in questo una mano anche più pubblica che non va di moda il pubblico anche la sinistra è un po' abbandonata che decida che tutte le malattie tutte le situazioni di difficoltà di povertà hanno diritto a un aiuto il privato è giusto che si rivolga a quello che sente più vicino però deve essere una mano in più comunque la cooperazione anche in Africa ha fatto moltissimo ci dobbiamo però anche chiedere cosa non ha fatto cioè se nel Sahel dove noi come cooperazione internazionale siamo presenti dai primi anni 70 sono 40 anni sono stati spesi 300 miliardi di dollari e la situazione ancora di 18 milioni di persone in stato di difficoltà io sicuramente sono convinta che se non ci fossero state le ONG forse sarebbero più di 18 milioni però mi preoccupo anche perché non ha funzionato cosa è successo e io sono l'ultima di quelli che se lo chiede perché in realtà avrete visto che sono usciti in questi ultimi anni anche libri proprio dall'Africa che mettono in dubbio il fatto che l'aiuto per l'aiuto sia utile e non sto parlando solo del vecchio discorso diamogli la canna da pesca banalizzo ovviamente invece che aiutiamoli direttamente dandogli il pesce non soltanto questo anche dare la canna da pesca perché a un certo punto ne diventi i campi profughi che ci sono al confine tra Ruanda ad esempio sono diventati delle cittadelle non lo scrivo io ma hanno già scritto quanto queste cittadelle fanno bene o fanno male in Siria sta succedendo la stessa cosa allora non è che non devi fare i campi profughi però magari non lo devi fare perché rimanga tutta la vita e si autoalimenti mi diceva un vecchio predaccio di Padova anni fa quando ancora avevo quel pergiudizio positivo e raccontavo tutto come fanno i giornalisti che si approcciano e dico che bello che bravi che siete mi diceva ma scusa ma che dici io voglio fare questa cosa perché mi voglio estinguere l'associazionismo lo scopo delle associazioni è morire perché io devo fare il progetto e poi basta se il mio progetto è andare avanti io ho sbagliato tutto ed è stata una delle tante spie che mi si sono accese nella testa quando ho pensato a questo libro in tanti anni senti ti faccio una domanda che è già polemica no è polemica la domanda 140 milioni nel mondo che si occupano di cooperazione non so quanti sono in Italia ma immagino che siano diverse diverse miliardi diverse decine di miliardi se oggi non ci fosse principalmente l'Africa ma anche il resto del mondo le guerre l'Iraq l'Afghanistan gli addetti del settore non avrebbero un lavoro cioè se si fa il progetto e si viene via diventa un problema perché poi tutti quegli addetti in genere sono in in quella parte di mondo che oggi ha a che fare con una crisi economica devastante immagino che ci sia anche una sorta di difesa istituzionale di questo mondo anche in questo senso e allora la domanda è ma chi aiuta chi? fai le domande prossime no sì è vero c'è anche un problema di di persone che lavorano e quindi anche di occupazione che è variamente diversificato ad esempio dal punto di vista degli stipendi no c'è una discrepanza enorme tra chi lavora per le grandi agenzie delle Nazioni Unite e chi lavora per le associazioni non governative italiane che vive spesso in un precariato profondo cioè dopo un libro che è un libro ormai a una certa età no io sono stata contattata da tantissimi operatori di associazioni italiane che mi dicevano sì ok tu hai raccontato poco ed è forse vero il mondo del precariato che c'è e magari lo stesso fondatore di una grande associazione non parlo ho in mente chi nelle stesse ore va a manifestare solidarietà ai lavoratori precari che stanno su una grua alla stazione centrale di Milano e nelle stesse ore c'è la cassa integrazione e la sua associazione con decisioni dall'alto su come tagliare i costi e con situazione di precariato forte diffuso in cui nell'assemblea dei lavoratori non si poteva parlare allora voi dite magari le tue fonti sono fonti che hanno qualche accredine col vertice no? ve lo chiedo sempre anch'io quando interrogo una fonda perché bisogna stare attenti c'era anche chi si rivolgeva a me perché aveva qualche ha avuto qualche problema però c'era anche gente molto strutturata che se ne era andata in maniera pacifica da quell'associazione ma disgustata cioè direttori di progetto che non quali non erano stati toccati direttamente da questa cosa ma che erano disgustati allora anche questo ad esempio è un tema no? all'estero si lavorano in tanti italiani per le associazioni ma ben venga e devono essere anche ben pagati ben pagati vuol dire che non è che il peso dei fondi di struttura deve sovrastare il peso dei fondi per i progetti perché a volte succede sono cose pesanti ma spesso non va poi nelle casche soprattutto per le ONG dei dipendenti spesso anzi i dipendenti sono un po' sfruttati in Italia all'estero è un po' diverso rispetti un po' se vuoi anche il mercato del lavoro italiano cioè è uguale profit non profit l'italiano ha le stesse malattie tutto sommato e dal punto di vista invece delle grandi urgenzie lo sapete il mio libro non è stato il primo che ne ha parlato di situazioni in cui viene mandato come consulente vivi a bordo piscina e vieni strappagato e magari è lo stesso consulente che dice ma come io ho fatto il progetto c'è una testimonianza qui di un'operatrice che è andata in Chad in Africa con l'Unicef e lei mi ha raccontato tante cose veniva pagate 10.000 dollari al mese per fare niente ma volevano che non facesse niente perché tutto sommato poi non valeva la pena mandare avanti quel progetto però tu intanto lavoraci è un modo anche per giustificare i costi ci sono tante variabili tante sfaccettature da guardare molto spesso l'ultimo dipendente non è poi niente e ci crede profondamente in quello che fa ma a volte anche il vertice dell'associazione ci sono associazioni bravissime cioè quello che ho cercato di fare anche in maniera ragionieristica ad esempio un capitolo è guardare i bilanci vedere dove finivano i soldi quanto va l'associazione stessa perché c'è bisogno di pagare l'affitto riscaldamento e quant'altro che per carità di Dio sono spese necessarie poi se arrivano al 50-60% del bilancio non va bene ma è ovvio che non va bene poi bisogna vedere da associazione in associazione chi ha una mission medica deve pagare i dipendenti medici infermieri e quindi avrà le spese di bilancio per i dipendenti più o altri che per altre associazioni è normale però se un'associazione ambientalista dedica 2 milioni e mezzo ai progetti e 2 milioni e mezzo alla pubblicità e non alle campagne per promuovere le buone pratiche ambientali perché sono due quello è progetto se tu mi fai la campagna per le balene è progetto ma la pubblicità vuol dire proprio pubblicità ecco lì io non dico non è che faccio un organizzatore però dico al donatore guardatelo questo bilancio stai un attimo attento è pieno di associazioni rivolgiti a un'altra non farlo più ecco rivolgiti a un'altra oppure dillo la tua associazione guarda che io lo so non mi sta mica bene questo era l'input che a volte è stato equivocato per lo più ma la fede devo dire la verità che le critiche sono venute pubblicamente poi come vi dicevo mi scrivevano intanto dicendomi ah finalmente che qualcuno lo dice quindi bene allora io faccio ancora una domanda Valentina Furnaletto poi ne posso fare molte altre però da da adesso se ci sono domande anche tra il pubblico apriamo il dibattito la domanda che ti faccio adesso una delle critiche al mondo della cooperazione è il fatto che tutto sommato sia anche un po' la longa manus dei ministeri degli esteri dei paesi che fanno che hanno ONG che fanno cooperazione io dico non è una cosa può non essere una cosa scandalosa il problema è che bisogna esserne consapevole anzi bisogna direlo come accade accade che se l'Unione Europea o il ministero degli esteri in questo o quell'altro paese stanzia dei fondi per la cooperazione in quel paese evidentemente tutte le ONG cercheranno di ottenere quei fondi e andranno a far cooperazione lì ma la decisione originaria è del paese ecco quanto questo è conosciuto dal pubblico e quanto è una critica da fare al mondo della cooperazione potrebbe muoversi in modo diverso la cooperazione ma sì anch'io penso che potrebbe muoversi in modo diverso appunto non per essere moralisti però Zanotelli lo dice nell'introduzione alla fine la cooperazione è diventata con i paletti avanzati del commercio estero e ci sono delle situazioni che stridono poi appunto basta esserne consapevoli ecco quello è sempre importante da consumatori e anche da donatori perché alla fine quello che facciamo quando diamo una donazione siamo dei consumatori tutto sommato ci fidiamo a quella associazione perché abbiamo fiducia in quella associazione è stato un esempio qualche tempo fa quando c'è stato il forum per la cooperazione qui a Milano e sul parco c'era non solo l'esponente principale di un governo abbastanza così una presenza abbastanza inquietante c'era l'allora ministro Riccardi che aveva in quel paese sue legittime attività poi c'era anche Scarone che voglio dire per carità adesso Scarone è un manager dell'azienda che porta avanti con gran successo eccetera però è Scarone cioè è Leni adesso che Scarone vada sul palco della cooperazione a raccontare quanto bene fa Leni pure la cooperazione stessa da giù si chiedeva cosa stessero facendo allora Riccardi secondo me magari in buona fede ha cercato di mettere assieme il diavolo in acqua santa non lo so non sono io che tu fai la faccia un po' non lo so appunto però ecco certe cose stridono le fanno tutte le fanno in tutti i paesi forse non stanno proprio non sono proprio opportune ecco poi per alcuni settori più che altri la cosa diventa anche equivoca ad esempio mi viene in mente l'ultima parte del libro che parla delle adozioni internazionali che è un esperimento sociale interessantissimo che portiamo avanti in Italia dagli anni 60 non è da tanto che si rivolge ad alcuni paesi c'è un protocollo dell'AIA che è riconosciuto come il minimo della trasparenza per avere a che fare con un paese perché noi andiamo nei paesi e tutto sommato prendiamo dei bambini da lì e li portiamo in Italia poi c'è un buon fine nel farlo dare una famiglia a questi bambini però dobbiamo essere sicuri di quello che viene fatto in quei paesi minimo che non abbiano davvero dei genitori o che i genitori li abbiano ma siano consapevoli di averli abbandonati allora se firmano questo protocollo lo standard minimo c'è non è detto che sia rispettato però almeno formalmente si fanno dei controlli se non c'è e noi facciamo molta adozione internazionale ad esempio con l'Etiopia che non ha firmato il protocollo dell'AIA con cui c'è un rapporto bilaterale con cui alcune associazioni non vogliono lavorare con l'Etiopia perché sono stati chiusi otto orfanatrovi perché ci sono forti sospetti che le adozioni siano fatte diciamo che i genitori biologici siano inconsapevoli di cosa significa adozione che per noi è scontato ma per loro no affatto quindi quando pensano di mandare un bambino in un istituto perché mangi e venga nutrito e venga istruito e poi firmano una carta in cui c'è scritto adozione non sempre sanno quello che stanno facendo e a volte prendono dei soldi per questo vi assicuro perché sono in contatto con dei genitori che mi hanno raccontato racconto un po' nel libro queste cose che è terribile vedersi in casa un bambino di 7-8 anni perché i bambini sono davanti e grandini che ti dice no ma mia mamma c'è ma come c'è scritto che non c'è ma mia mamma mi ha detto di mangiare nutrirmi e poi torno in Etiopia allora è una lacerazione A nei bambini B nei genitori biologici che non sempre sanno ci sono storie ve le vedete su internet è pieno perché all'estero hanno chiuso all'Olanda ha chiuso i Paesi Bassi hanno chiuso con l'Etiopia e noi no noi non c'è neanche un'indagine in corso questi genitori si sono rivolti alla CAI commissione adozione internazionale ai loro enti si sono rivolti al ministero e non succede ancora nulla c'è c'è molto su internet su questo c'è stato anche un bel documentario in Italia passato a quegli orari terribili tardissimi e sono ferite sulla carne delle persone grosse e perché lo dico parlando della cooperazione perché ad esempio con l'Etiopia noi facciamo cooperazione anche quando tu la fai l'associazione fa sia cooperazione che adozione internazionale però fa cooperazione internazionale a patto che arrivino dei bambini allora stimoli quei mediatori in loco a trovarli i bambini e se non ci sono dove li trovo vado nei villaggi e gli dico senti tu ne hai sei di figli dammene due cioè sono sempre situazioni ai limiti no e però poi alla fine ci sono delle persone che hanno dei diritti che non sempre questi diritti vengono rispettati e allora anche lì quando si parla di adozione internazionale bisogna stare molto attenti quando si parla di tempi lunghissimi per l'adozione bisogna stare attenti perché quando le associazioni te li vogliono accorciare non sempre va bene per dirne una ecco ad esempio nelle commissioni di piani diversi a rischio non so se ci sono appunto delle domande se no Raffa ci sono domande te ne faccio una io allora una considerazione è una domanda parlando di Africa diciamo in un momento in cui l'Occidente l'Europa in particolare è alle prese con una profonda crisi economica una stagnazione che ormai è prima una recessione che si trascina da parecchi mesi l'Africa ci dicono i dati della Banca Mondiale del Fondo Monetario insomma delle grandi agenzie che governano la macroeconomia sta vivendo un periodo di forte sviluppo economico sicuramente la miglior performance economica degli ultimi 20 anni e il paradosso e mi allaccio al tema di stasera di oggi è proprio questo che la migliore il boom economico avvenga nel momento in cui l'Occidente abbia tagliato gli aiuti allo sviluppo e allora la cosa che mi chiedo è l'Africa ha bisogno di filantropi di solidarietà o ha bisogno di partner economici per farlo la seconda considerazione io penso che anche il mondo dell'informazione abbia le proprie responsabilità lo citavi proprio prima Valentina sulla mancata critica in un certo modo di operare della cooperazione e penso sia legato al fatto anche che i giornali il mondo dell'informazione in generale abbia tagliato drasticamente i fondi gli investimenti per i propri inviati per i corrispondenti e oggi un giornalista un cronista anche volenteroso con la voglia di andare a scoprire a verificare le notizie è costretto quasi sempre ad appoggiarsi io faccio l'esempio dell'Africa a due realtà per muoversi o alle realtà legate al turismo per cui pure operator o linee aere che in qualche modo finanziano il viaggio oppure ONG realtà che si occupano di cooperazioni e che in qualche modo garantiscono diciamo quegli appoggi logistici di cui appunto il cronista ha bisogno di riflesso cosa si ha? si ha il problema che poi l'informazione filtrata sull'Africa è sempre o intrisa di esotismo quelli che si appoggiano appunto ai canali turistici o intrisa di pietismo quelli che si appoggiano alla cooperazione e penso che non sia un buon modo di fare informazioni la rivista Africa di cui parlavo prima è una rivista missionaria mi chiedo se Valentina ha toccato ha sfiorato ha intenzione di approfondire invece diciamo il rapporto diciamo che hanno gli istituti missionari la cooperazione l'Africa le contraddizioni anche è una critica insomma su questo mondo allora partiamo dal primo tu dicevi partner commerciali piuttosto che benefattori assolutamente sì però a questo punto l'Europa è rimasta molto indietro l'Italia spaventosamente indietro perché l'Africa come dicevi sta avendo uno sviluppo sproporzionato non sempre regolato la Cina è il più grande partner presente nel land grabbing anche nelle infrastrutture in maniera assoluta nella maggior parte dei paesi africani questo ci dovrebbe non preoccupare ma ci dovrebbe svegliare ma già avrebbe dovuto da un pezzo anche l'America però la Cina in maniera forte c'è un libro da Deid di D'Ambisa Muoio di qualche tempo fa che proprio da un punto di vista africano benché lei abbia studiato in America condanna l'aiuto in quanto aiuto quando noi aiutiamo ci poniamo sempre quattro scalini sopra di chi aiutiamo e questo è già sbagliato di per sé secondo me cioè alla fine è come dare del tu a una persona di colore perché di colore è una cosa tremenda questo l'abbiamo imparato dovremmo anche imparare che non aiutiamo proprio nessuno se andiamo lì è perché o siamo i paletti avanzati appunto del commercio estero oppure in quel momento vogliamo essere benefattori ma l'atteggiamento stesso è sbagliato certo con alcuni paesi è più difficile perché le situazioni politiche lì sono difficili e quindi non è che bisogna bandire tutto quello che è aiuto però porsi in una maniera diversa in una maniera diversa può essere microcredito ci sono tante cose belle che vengono fatte e quindi si pone porsi in maniera diversa sulla crisi dei giornali e il punto di vista dei giornalisti assolutamente uno dei grandi errori che noi facciamo non solo è quello di avere un occhio benevolo è di purtroppo non avere un editore quindi se l'editore o l'editore non c'è soldi non ti manda in Africa o dovunque a vedere le cose tu ci vai al seguito dei leni è vero e poi vedi quello che vogliono loro o al seguito dell'associazione e vedi quello che vuole farti vedere l'associazione quindi sei embedded essere embedded con un esercito essere embedded con un'associazione è la stessa cosa nel senso che tu le cose le vedi ma vedi quelle che vogliono farti vedere e questo è sempre comunque un occhio distorto sulle cose quindi vengano se si potesse degli editori che hanno i soldi per mandarti così che tu veda veramente quello che accade sul territorio solo che stai parlando di un altro mondo i soldi non ci sono neanche per pagare i dipendenti dicevamo prima tutte le aziende editoriali sono in crisi e voglia anche soltanto fare un servizio su questi temi adesso non va più molto quindi come dicevamo prima questi temi poi vengono trascurati non soltanto non si discute di come trattarli bene no? l'ultima cosa era su missionari sì beh missionari sono stati presenti la chiesa è stata presente in Africa lo sapete benissimo l'atteggiamento della chiesa è stato stracriticato per decenni per il punto di vista per l'atteggiamento proprio che c'è stato l'associazione la cooperazione privata avrebbe dovuto fare altro no? a volte lo fa a volte no a volte si pone con lo stesso occhio così di voler imporre le proprie dall'alto i propri dipendenti il proprio modo di fare a volte no a volte ad esempio ci sono delle belle partnership anche in Kenya mi viene in mente adesso del Cels ma ce ne sono tante belle con associazioni locali che tendono a passare la palla all'associazione locale a coinvolgerla e questo è interessante oppure a prendere da loro i metodi perché poi anche questo è una logica mentale diversa che ti viene imposto oppure che tu tendi ad assimilare non so se ho risposto ma non ci ho provato mi pare di cogliere un doppio aspetto quindi da una parte l'associazionismo la cooperazione interviene nel momento in cui lo Stato c'è troppo perché ha un interesse e dall'altra parte si crea associazionismo dove lo Stato non c'è e quindi il cittadino risponde autonomamente a un'esigenza personale o appunto di carenza di voto è così o ci sono le sfumature tra questi due estremi magari una questione logistica raccolgo magari due o tre domande così evitiamo di passare continuamente sì prego un'altra domanda se non ho preso si parlava di in un occhio più obiettivo dei giornalisti che vanno a vedere la situazione come è ma in questo caso il giornalista dovrebbe se la casa di Gris non lo vanda a sue spese dovrebbe auto pagarsi le spese di piaccia e dovrebbe capire se era stato il suo caso oppure se nel libro lei ha invece diciamo un vario adatto senza fare tanti viaggi ma più una casa senza stagnare grazie prego volevo chiedere quanto è bene che ci siano tantissime associazioni piccole che si occupino di tanti micro progetti invece che un'associazione magari più grande più strutturata che possa più efficacemente agire e quanta cooperazione c'è tra i cooperanti tra le varie associazioni altri interventi prego sì io mi ero fermato ma l'argomento mi interessava io vivo in Chiapas normalmente quindi in realtà africana non la conosco personalmente lavoro anche in appoggio alla comunità indigene però quello che mi accorgo è che ci sono un sacco di organizzazioni ONG ONG quindi non governative che in realtà io sono accorto in questi quattro anni che fico là che portano più che altro i modelli di sviluppo occidentale cioè c'è il tentativo di far sì che le popolazioni indigene escano dalla povertà cosiddetta per assumere i modelli di sviluppo di consumo soprattutto di consumo occidentale organizzazioni che sembrano bellissime che ricevono anche tanti soldi da non so dove ricevono molti fondi ecco io mi sembra che il problema non è solo quello di fare una selezione tra quelle organizzazioni di cooperazione che è vero che portano che nei loro bilanci dedicano molto più denaro per per se stessi che non per la cooperazione delle proprie ma anche credo anche quelle organizzazioni che quando vanno là volenti o nolenti coscienti o non coscienti portano un modello fiduptale mi spiego meglio quando noi portiamo una macchina la doniamo è necessario che ci sia qualcuno che ha avuto una preparazione occidentale e quindi creerà una dipendenza economica al mondo occidentale da là quindi si va la cooperazione in sostanza mi sembra che molto spesso non tutta fortunatamente però molto spesso provoca una situazione di dipendenza del paese del terzo mondo riguardo il mondo occidentale chiudo forse quello che io mi sono un pochino chiarito là era che forse occorre selezionare quelle popolazioni quelle persone che dal basso si organizzano e quelle sì che sono loro a decidere come utilizzare le risorse che vengono da fuori che sono loro che decidono come utilizzare i cooperanti che non si presentano lì e sono alle dipendenze diciamo così anche di tipo organizzativo delle popolazioni originali altrimenti veramente si ricasca nel colonialismo di un altro tipo di colonialismo può passare un pochino una cosa molto semplice volevo solo sapere mi sono sempre chiesta se queste grandi raccolte di fondi tramite teletone piuttosto che di sms soprattutto se sono donazioni che effettivamente vanno a un buon file c'è da fidarsi se tutti i soldi vengono spesi per il progetto se soprattutto tramite questi sms magari vanno le compagnie che ne so telefoniche piuttosto che si perdono per strada grazie penso che Valentina abbia raccolto le idee attorno alle riflessioni e le sollecitazioni del pubblico sì caspita che belle domande come sempre penso di parlare a una platea amica cioè dopo è scontato che tutti qui siano appassionati di queste cose sono venite alla cosa giusta perché se no ogni volta che parlo devo dire non sono contro la propria ansia voglio solo distinguere eccetera quindi lo dico una volta per tutte la cooperazione certo la cooperazione deve superire deve superire sia quando si parla di onlus in Italia che si occupano di assistenza invece che di disabili invece che di altro sia quando si parla di cooperazione internazionale deve superire a quello che lo Stato non fa per la cooperazione internazionale lo Stato non fa nulla in Italia proprio il momento è zero zero virgola quindi in realtà fa la cooperazione internazionale e ti basta per il welfare in Italia fa? sì fa però poi è stato venduto molto anche questa idea della sussidiarietà per cui avanti con i privati eccetera e lì si pone dovrebbe superire in realtà a volte fa quello che proprio lo Stato non fa il che va benissimo perché l'iniziativa privata soprattutto senza fine di lucro è la benvenuta secondo me come dicevo prima non è possibile che un malatto deva stato simpatico disabile una malattia un problema internazionale invece che un altro no cioè ci vuole anche un aiuto distribuito in maniera equa perché ci saranno sempre dei coni d'ombra che ah non sono in grado di promuoversi perché è questo in realtà con la cooperazione privata o l'associazionismo nazionale c'è chi è bravo o perché spende tanti soldi o perché invece è proprio bravo bravo a porsi davanti e c'è chi non è bravo quindi c'è ci sono delle distorsioni anche nel faccio da me mi do da fare mi tiro sulle maniche crea un'associazione ma sì però ci vuole anche la cooperazione diciamo di Stato è brutto da dire però c'è viva lo Stato viva le tasse cioè se servono a fare qualcosa per me per me questa è sinistra poi non va di moda giornalista spese me l'avevi chiesto tu allora spese assolutamente figurati se con Fintus mi paga le spese per andare a vedere l'associazionismo addirittura una cosa impopolare come parlare male dei buoni ma non esiste non ti paga nessuno cara grazia che Chiare Lettere è un editore coraggioso perché io sono andata da loro e gli ha detto guarda io ho questa idea ho tanti dati io avevo raccolto in tanto tempo il materiale che come dicevo prima erano dieci anni che tenevo rubriche su questi temi in maniera così cioè di solito le trasmissioni che si fanno su questi temi e che mi sono capitate mi è capitato di farle per caso e poi mi hanno appassionato si fanno appunto in maniera molto benevole e però nel tempo avevo accumulato un po' di dati interviste spie anche i bilanci cioè mi era capitato di chiedermi come mai Emergency avesse un bellissimo ospedale in Sudan ma bellissimo cioè giardini curati aria condizionata e cura gratuitamente lì le persone e viva che lo fa però quando gli chiedi come se lo paga perché come te lo paghi è con i fondi privati ok di chi arrivano i fondi da donatori privati benissimo allora il giornalista che si occupa di queste cose il solito dice com'è brava l'Emergency allora io sono andata a vedere il mio bilancio nel bilancio se voi lo andate a vedere nel 2008 di più tantissimo poi un po' meno ma il contributo del presidente del Sudan era enorme e se voi andate a vedervi nell'Apple Pie nella Chazo di quanto Emergency poi torna al Sudan come ospedali è enorme cioè loro prendono da Bashir che non è proprio uno stinco di santo e tornano lì con delle grandi ospedali gratuiti e non è che curano solo gli amici di Bashir curano tutti e loro ti rispondono noi curiamo le persone indipendentemente i soldi non ce ne importa niente chi ce li dà pure Berlusconi ce li può dare noi li prendiamo perché curiamo le persone che dal punto di vista di un medico fila il discorso però un medico in Italia che trova una persona su una strada sanguinante in Sudan non c'è uno stato di diritto quindi non è che poi dopo quello che hai curato viene piantonato in ospedale e poi vediamo di fare un processo quindi con queste cose si può andare avanti si può dire ok però me lo devi dire lo devi sapere allora spese assolutamente pagate da me viaggi ne ho fatti qualcuno ne ho fatto per rendermi conto delle cose anche per fare interviste perché non è che la gente si fida se tu la chiami al telefono e ci senti raccontami cosa hai visto giustamente ti manda a quel paese allora instauri un rapporto di mail di telefonate poi a un certo punto decidi di andare a vederle per parlare con le tue fonti e vi assicuro che le fonti che sono lì tanto ci sono i nomi poi sono molto sicure accreditate perché ci sono state anche altre persone che mi hanno raccontato ma che non ho ritenuto che ci fossero altri puntelli perché le loro testimonianze fossero solide e quindi spese insomma sono ripagata con quei pochi soldi che Chiare Lettere da editore è molto coraggioso perché dicevo loro veramente perché questo è un tema se tu vuoi parlare male della mafia sei molto coraggioso perché poi la mafia ti fa fette però chi è che non è d'accordo se tu invece provi a dire ma sai vorrei fare una cosa andando a vedere l'opacità del terzo settore c'è chi dice ma che sei matta cioè voglio diventare impopolare subito ma sì tanto cosa cambia non è che io sono me cambia la vita piccole associazioni allora piccole versus grandi no non necessariamente non metterai l'industria della carità contro l'artigianato della carità basta che non sia carità cioè il criterio è quello di stare attenti a non porsi cioè le associazioni brave sono quelle trasparenti efficienti efficaci cioè che poi si vede il risultato concreto che non abbiano un atteggiamento benevolo di non so di atteggiamento caritatevole appunto in certi casi come nei casi delle adozioni internazionali se sono grandi è meglio ma perché hanno più forza economica quindi hanno i soldi per mandare sul territorio uno che scodinzola tutto il giorno andare a vedere che non ci siano mediatori quelli di prima che vanno a caccia dei bambini quindi ecco in certi casi è meglio quella grande in altri casi no il macchinone dell'associazione grande che spende tanto in pubblicità ma anche no dipende cioè mi dispiace dare una risposta che sembra un po' democristiana però nei fatti dipende dall'associazione stessa non è detto che l'una l'altra non vadano bene no? cooperazione tra associazioni c'è beh c'è una grande competizione perché tu raccogli i fondi quindi sei sulla piazza e quello che prende tizio non prendo io quindi mi devo fare pubblicità per avere più fondi e questo spinge tantissimo poi li porta a spingere tantissimo sul pedale sull'acceleratore del marketing perché è un circolo vizioso devo raccogliere più fondi sono su un mercato perché è un mercato quindi mi faccio più pubblicità quindi spendo più pubblicità e non se ne esce quelli bravi sono quelli che si consorziano e lo fanno alcuni tipo copi, ces vi hanno fatto delle cose insieme perché alla fine tagliano alcuni costi come fanno le piccole aziende poi un po' come dicevo prima il mondo non profita ha gli stessi difetti del mondo profita per cui anche loro sono un po' orgogliosi della loro piccola storia delle piccole cose quindi le fusioni sono faticose con una situazione di crisi anche delle donazioni attuali le spinge di più a farlo quelle intelligenti alla fine dicono sai che c'è che se ne importa della mia storia voglio sopravvivere fare altre cose ci troviamo in tre mettiamo insieme gli uffici l'ufficio marketing l'ufficio logistica eccetera che fanno delle belle cose ciapas beh io sono d'accordo spalando una porta aperta quella del modello di sviluppo occidentale che non va così preso portato lì ma anche gli stessi macchinari la logistica le persone andrebbero utilizzate lì tanti lo fanno altri no quindi sono d'accordissimo dovrebbe essere un criterio uno dei criteri da tenere presente quando ci si approccia a un'associazione è quello di vedere quante cose il blocco fa con una mentalità diversa partendo da un punto di vista diverso se lo pongono questi temi se li pongono le associazioni devo dire non tutte ma alcune se li pongono le grandi raccolte sms dal punto di vista delle società telefoniche non c'è non c'è mai stato e non c'è finora una trusca un problema vero quindi io direi di fidarsi è un meccanismo molto lungo un po' lungo che tende alla fine non sempre ad andare in porto ma non per colpa delle società telefoniche di solito ad esempio c'è stato il caso dell'Abruzzo della raccolta fondi dei cantanti di quant'altro e loro sono mostri subito le società telefoniche hanno fatto loro alla fine ad esempio in Abruzzo per tre anni i soldi del quel famoso domani di giovanotti erano rimasti fermi su un conto del Ministero dei beni culturali perché non si sa per questioni burocratiche di questi io ne racconto tante di cose del genere perché a volte la sciatteria fa più male che la malafedia perché come le usiamo non lo sappiamo deve instaurarsi la commissione boh non lo so e stanno lì stanno lì stanno lì Teleton ad esempio è una grande macchina però è una macchina che funziona devo dire la verità anche guardando il bilancio poi sai il bilancio anche lì puoi fare anche un po' quello che vuoi però qualcuno te lo deve certificare poi il Corrideris però anche guardando il bilancio altre grandi associazioni invece della ricerca sono meno virtuose ad esempio tante ed era una cosa che io non sapevo accantonano molti liquidi e li mettono in bot non solo della ricerca anche consorzi di associazioni per l'emergenza ha avuto poi una lunga discussione durata mesi col consorzio agire che si era mostro per Haiti ai tempi non so se ve lo ricordate della tragedia di Haiti è stato raccolto un numero spropositato di soldi giustamente per l'emergenza perché il claim era aiuta subito e loro un tot l'hanno usato subito un tot hanno detto sai che c'è adesso non lo usiamo ci affidiamo a una società tra l'altro che poi è venuta fuori questo scandalo perché loro sfortunatamente si sono affidati a tale rete manager di Dino un tale Dino Pasta che adesso è in carcere che li aveva truffati li ha venduto obbligazioni che erano carta straccia sono stati molto sfortunati loro in realtà volevano obbligazioni non è che volevano intascarsi i soldi il problema però è perché affidarsi a rete manager quando ci sono i bot che sono un po' sicuri in banca etica non lo so perché voler guadagnare più del 3% io non penso che loro volessero lucrare però se tu raccogli per l'emergenza fai emergenza perché l'emergenza paga i donatori con l'emergenza ti danno so che dei soldi se no seriamente gli devi dire io voglio dei soldi per accantonare per la mia associazione perché ho bisogno di fare un piano di 10 anni e mi aiutate per 10 anni perché devo accantonare loro sfortunatamente sono incappati in truffature però poi è venuto fuori che era un truffatore che aveva come clienti tutte le associazioni allora le associazioni investono in obbligazioni voi sapete che le obbligazioni non si sbloccano subito hanno dei rendimenti più alti di altre forme di risparmio è ovvio che anche le associazioni se hanno un gruzz lo devono risparmiare ma su cosa investi è tema di dibattito credo allora loro per dei mesi sono molto arrabbiati perché io mettevo in dubbio la loro serietà eccetera alla fine insomma anche loro non si è fatto nulla io ho detto le cose stanno così ed è finita così a pari patta però sono tutti temi temi secondo me che increspano un pochino quella superficie piatta delle buone intenzioni per nulla fa la cosa giusta ma fa la sul serio mi verrebbe da dire fa la con criterio stando attento ed è il senso del mio libro che vorrei che fosse una mappa per muoversi così se ci sono ancora domande va bene altrimenti una riflessione sulla quale vorrei chiamarti in casa io credo che uno dei più grossi problemi naturalmente ci sono tutti questi problemi di cui abbiamo parlato fino adesso ma una cosa che a me risulta abbastanza fastidiosa del mondo della cooperazione è che molto spesso si raccolgono fondi che sono essenziali per fare l'attività e molto spesso si raccolgono questi fondi lanciando questo messaggio neanche molto tacito noi siamo bravi facciamo delle cose buone quindi se tu vuoi essere bravo con noi dacci soldi eccetera ora a me che capita spesso di viaggiare e quindi andare a vedere come vengono usati questi fondi una cosa che so per certo è che il mondo della cooperazione non farebbe assolutamente nulla se non ci fosse la società civile sul posto il mondo della cooperazione l'unica cosa che potrebbe fare è arrivare con un camion pieno di sacchi di riso e buttarli giù così chi gli racconta la situazione sociale chi gli fa la logistica chi tante volte gli fa da traduttore con le lingue locali chi capisce com'è la situazione è la società sul posto le ONG assumono sul posto ecco a me piacerebbe anche per pareggiare quel mondo chi fa cooperazione si mette già quattro gradini sopra a me piacerebbe che il mondo della cooperazione dicesse noi ci avvaliamo degli africani perché c'è una società che funziona e tante volte li invitiamo anche qui perché siamo sempre noi che andiamo lì tante volte a raccontare un progetto o una situazione e a me piacerebbe che parte di quei fondi fossero usati per farci conoscere le persone con le quali cooperiamo ecco questa cosa credo che nel nostro mondo della cooperazione manchi completamente io sono meno disturbato dal problema che sollevavi tu cioè la dipendenza economica io credo che non ne usciremo molto facilmente se facciamo cooperazione purtroppo dipendenza la produciamo ma la produciamo con tutto allora sarei molto contento se chi fa cooperazione chi mi chiede i soldi mi parlasse anche del mondo e mi facesse parlare loro di di come si rapportano con noi e di come pensano di utilizzare in modo positivo anche con la cultura locale quei fondi questa cosa credo che si faccia veramente poco o lungo il messaggio che arriva è sono bravo vado ad aiutare i bambini che hanno fame le donne che non possono partorire in sicurezza eccetera dammi i soldi che ci penso io la realtà non è questa però beh è una riflessione interessante importante direi che sono completamente d'accordo tra l'altro esistono degli esperimenti interessanti c'è una ONG in Italia che si chiama Poveri voi è molto curioso è stata fondata da due africani che mandano ovviamente è assolutamente una provocazione mandano gli italiani in Africa a vivere bene perché dicono dovete poveri voi dovete imparare a vivere meglio ovviamente è una provocazione per ribaltare il punto di vista c'è stato anche in Norvegia mi sembra nei paesi scandinavi un video molto curioso interessante di un'associazione che metteva tutti questi bambini africani a cantare una canzone tipo We are the war per offrire dei radiatori ai bambini norvegesi perché poverini d'inverno non ha tanto freddo anche lì ovviamente una provocazione per ribaltare il punto di vista io credo sia necessario proprio ribaltare il punto di vista e non porsi come persone che vanno ad aiutare perché gli africani intanto ne hanno pieno le scatole di un atteggiamento di questo tempo poi appunto l'Africa è in grande movimento cioè hanno bisogno di partner commerciali di ragionare sui progetti di democrazia e quindi che non ci siano collusioni internazionali di politica con i loro governi che consentano poi di affamare i loro governi e la popolazione insomma è un tema grosso e la consapevolezza di questo punto di vista deve essere massima volevo ringraziare la rivista Africa moltissimo perché mi ha invitato e credo che tutte le associazioni in questo caso la rivista che aprono un dibattito su questo abbiano molto coraggio un futuro di vista diverso e che debba veramente essere l'ho accolto sempre con grande entusiasmo poi volevo dire prima che ho distrattato il mio editore che poi magari non mi senti da qualche parte no che ovviamente solo 24 ore ormai mi pagherebbe un viaggio per andare a fare queste cose a parte che era una cosa che facevo io al di fuori del lavoro però le due cose che volevo dire riguardo al fatto che sono solo 24 ore perché il mio editore chiaramente confido se anche a volte mi sono arrivate delle critiche ridicole sul fatto che appunto lavoravo per il pro profit addirittura oddio oddio ma il profit io solo 24 ore è una delle aziende più meritocratiche che nelle quali mi sia capitato di lavorare nel senso che veramente benvengano qualsiasi tipo di azienda profit oppure associazione che ragiona in maniera meritocratica quindi non ha assolutamente pagato nulla e di fuori da queste cose non ridirebbe all'idea di parlare male di qualcosa di così popolare però posso solo parlarne bene e mi ha consentito in dieci anni di occuparmi di questi temi magari a un'ora tarda perché le mie trasmissioni rimane sempre in onda o troppo tardi o troppo presti però mi sono sempre occupata grazie ai direttori di Radio 24 che hanno sempre pensato che se ci fosse modo di aver spazio insomma per questi temi grazie a tutti grazie a Valentina Furlanetto grazie a Raffaele Masto grazie a voi il tempo a disposizione è concluso voglio ricordare un appuntamento importante sempre promosso dalla nostra rivista domani sempre qui a fare la cosa giusta alle 11 parleremo del difficile mestiere di capire e raccontare l'Africa lo faremo con tre grandi reporter con Raffaele per quanto riguarda l'informazione radiofonica con Davide De Michelis che è un documentarista della RAI per cui parliamo di televisione e con Pietro Veronese che è stato inviato per 20 anni del quotidiano La Repubblica per cui in carta stampata vi invito naturalmente a passare in libreria per chi ancora non lo conoscesse non avesse ancora letto a recuperare l'industria della carità di Valentina Furlanetto e se volete anche il libro di Raffaele Masto di Arvio Africano tappuino di un reporter che trovate a 30 metri da qui alle vostre spalle allo stand della rivista Africa dove potete recuperare eventualmente una copia saggio della rivista traduta grazie ancora e buona giornata a tutti